Ciao Raffaele! Ragazzi salve! Oggi nella nostra boutique dell'intimo, a chi tocca, a chi tocca? Il collant, una cosa fine, una cosa bella, particolarissimi, ovviamente i nostri modelli sono tutti particolari, quindi collant semplici da noi, l'unica cosa che non trovate sono le cose semplici, le cose particolari ne trovate in quantità. Io ti seleziono sempre qualcosa qua perché non posso farti vedere la vetrina, magari esce qualcosa che non si può vedere. Ci bloccano, ci bloccano. Dipende sempre qualcosa qui. Allora ragazzi, come diceva Raffaele, questi sono tutti i nostri collant, presso gli store ne trovate davvero tantissimi, o a Casoria o a Puzzoli, o sul sito internet www.ltempiodelleros.com trovate sia quelli disponibili che quelli in arrivo, con redati di descrizione, quantità, prezzi e taglie e cosa vuol fare. Eccolo qui. Perfetto. Ragazzi che direi, vi aspettiamo agli store o sul sito nostro www.ltempiodelleros.com Ciao!